Ciao a tutti, quando parliamo di sostenibilità parliamo anche di un mercato che va fatto contando fino a 100 e centellinando, misurando qualsiasi passo. D'altra parte, nell'ultima stagione, nonché la prima di Cristiano Giuntoli a Torino, questa parola, sostenibilità, ci è stata ripetuta in tutte le salse, con tutte le sue sfumature, in praticamente tutte le interviste. E questo è un modo, a, per non illudere il popolo bianconero, e b, spiegare come sia l'attuale situazione, ovvero a livello di conti, bisogna mettersi a posto, sicuramente con l'ultimo momento di capitale, che gli azionisti ancora una volta hanno mostrato di tenere e come alla Juventus, però non è neanche tempo di prenderti il Cristiano Ronaldo di turno a 100 milioni di cartellino e farli 31 milioni netti di ingaggio per tot anni. Quindi, la Juve si rinforzerà, la Juve è già partita con questa campagna in maniera, secondo me, diligente, alzando subito il livello del centrocampo, assicurandosi da Grace Lewis, che è uno dei migliori nel suo ruolo al mondo, e prendendo Di Gregorio, che per tutta la Juve rappresenta l'estremo difensore, che viene, che verrà a quale affidarsi, quindi, per un bel po' di anni. Però, se parliamo, se facciamo riferimento a Kefren Thuram, nome che non è mai uscito dal mirino a Juventus negli ultimi mesi e che è tornato prepontentemente di moda, considerando come la Juventus abbia aperto un dialogo da giorni con il Nizza, e qua sostenibilità passa anche attraverso esplorare nuovi mondi, quindi cercare di inserire eventualmente un calciatore in trattativa separata, un po' quello che è accaduto nel maxiscambio, inedito, appunto negli ultimi anni, tra Juventus e Aston Villa. E quindi è normale che, sapendo che il calciatore vada in scadenza, Thuram, il 30 giugno 2025, è normale che, sapendo che questo contratto non lo voglia rinnovare, è normale che, apprezzando evidentemente il fatto che tu lo cerchi e quindi lui verrebbe, anche di corsa, aggiungo io, tu abbia dalla tua parte più carte da giocarti per fare in modo che l'investimento sia contenuto, anche perché non possiamo spendere e spandere. Io su questo punto continuo a battere, lo so che voi sognate, dovete farlo perché il mercato fa sognare, ed è giusto così, ma va raccontato il mercato vero, non quello che vorreste ascoltare. Quindi, ora ci sono dei fatti, giocatori presi, in attesa di ufficialità, le mosse effettuate anche su alcuni rinnovi, quindi non è che stiamo raccontando un quadrastratto, ci sono già delle mosse molto chiare. Ma non possiamo nemmeno immaginare che la Juventus possa prendere, dopo Douglas Lewis, Calafiore a 50 milioni, Coop Miners a 60, Turam a 20, senza vendere o senza sacrificare alcuni giocatori. Ecco, se raccontassimo questo, io vi prenderei per il Deiretano e non sarebbe bello. Bisogna lavorare in uscita. Viene lavorare in uscita? Bene. Viene lavorare in uscita per cercare di creare quel gruzzoletto che ti consente poi eventualmente di andare a parlare nuovamente col Bologna, nuovamente con l'Atalanta e con le altre società coinvolte per quanto riguarda i tuoi obiettivi. E quindi su Turam è normale che la Juventus cerchi magari di togliersi qualche problema. E' normale che la Juventus possa aver messo sul piatto uno tra Milik, Ken, Kostic, Nonget, perché sono magari, chi più chi meno, calciatori che non rientrano nel tuo progetto tecnico e che se finissero in un'operazione di questo tipo ti creerebbero un doppio vantaggio. Ti aiuterebbero a spendere meno e b a toglierti appunto un ingaggio o comunque un calciatore che non smalida la voglia di tenerti. Dobbiamo fare dei distingui perché quando noi parliamo degli ingaggi di Ken, superiore 3 milioni netti, l'ingaggio di Milik, parliamo di quel target, l'ingaggio di Kostic pure, sono tutti ingaggi impattanti. Poi mi spiegavano che la situazione del Nitz è abbastanza chiara, cioè il Nitz è una società con le spalle ben coperte, con i suoi equilibri finanziari, ma che tende poi a valorizzare il patrimonio tecnico, passando soprattutto dai giovani e anche da allenatori che sappiano lavorare con gli stessi. Quindi ci sta alla grandissima che è giunto lì. Per primissima cosa cerchi di dire, caro Nizza, questa è la lista dei miei suberi, ne prenderesti uno? Perché tanto la Juve sa qual è la richiesta del Nizza per quanto riguarda il cartellino. La Juventus sa anche che quella cifra non la spende, perché se Turam dovesse rimanere un anno a Nizza ancora per cause astrali, si ritroverebbe il prossimo febbraio con la possibilità di essere in procinto, di diventare un free agent, e quindi febbraio 2025 Turam, se rimanesse a Nizza, potrebbe promettersi a costo zero. Questo creerebbe un grosso danno al club transalpino. E quindi la Juve, secondo me, si trova davanti a un doppio piano. Il primo è cercare ancora più concretamente di capire se è un calciatore inseribile. Non c'è, mi sembra che a livello di ingaggio e di prospettiva possa essere quello più interessante per il Nizza, ma anche altri nomi potrebbero fare il caso del club rosso-nero. Oppure vai a fare una prima offerta in fase embrionale, ne so, di 15 milioni, ti diranno di no, la alzi, magari aggiungendo dei bonus. Insomma, la parola sostenibilità, che ormai ha catturato H24 a nostra attenzione quando parliamo dei conti della Juventus e in generale del suo mercato, è proprio questo, cioè non fare cose tanto per farle, ragionarle e capire se nell'utilità di una trattativa tu ti possa risolvere anche un problema. Sono tanti i giocatori che devono lasciare la Juventus quest'estate o che la Juventus avrebbe il desiderio di piazzare, meglio ancora. E non è un caso che comunque con la Stonevilla pam, pronti via, due piazzati. Ovvio, tu volevi piazzare McKennie, che rappresentava un problema, che è lo stesso problema che rappresenta poi Turam per il Nizza, perché entrambi vanno in scadenza nel giugno 2025. Quindi uno mi può dire, perché non riproviamo lo scambio? Perché non credo che uno che rifiuta di andare alla Stonevilla, o meglio, che poi forse raccontarla così è sbagliata. McKennie non è che ha rifiutato la destinazione in sé, però ha fatto delle richieste alte a livello di ingaggio sia alla Stonevilla e anche in termini di exit strategi alla stessa Juventus. Quindi credo che poi tutto può accadere, ma uno scambio Turam-McKennie sia pressoché aria fritta. Ma è normale, come dicevo prima, che la Juventus in questa fase cerchi di piazzare i suoi esuberi nelle operazioni che ritiene più prioritarie per quanto riguarda il mercato d'intrata. Poi inizierà un altro mercato, e voi lo sapete bene, voi me lo insegnate, perché tendenzialmente si parte o spromattuto, comunque con l'intenzione, con il desiderio di fare, di prendere 3-4 giocatori subito per avviare ai migliori modi il pre-season. Dopodiché c'è una fase quasi nel guado, direi, e poi tendenzialmente dopo metà Ferragosto, ora le società qua vengono più impattate perché parte anche il campionato, iniziano i saldi. Ecco, io credo che Giuntoli voglio evitare di arrivare in quei giorni di Ferragosto, in quei giorni di Agosto in generale, con troppi saldi, con troppi subiti da piazzare, perché poi è là, se devi essere tu, ad andare incontro alle esigenze degli stessi calciatori e paghi il 30% di uno stipendio a uno per andare in prestito e regali l'altro. Ecco, io avverto proprio la Juventus che sta lavorando su più fronti, molto col mercato estero, proprio per cercare di piazzare più calciatori e al tempo stesso con la volontà di rafforzare la squadra di Tiago Motta, perché noi lo sappiamo bene, sul mercato dobbiamo continuare a fare tante cose. Quindi su Kefgen Turam si va avanti, si parla, si cerca eventualmente di trovare il giusto spiraglio, il giusto nome, ma senza fare il passo più lungo della gamba, perché contrattualmente parlando, questo è un problema dell'inizio. L'inizio non può permettersi minimamente di perdere questo calciatore a costo zero, sarebbe un danno troppo ingente, ma anche di immagine, non solo in termini finanziari, per il club, e quindi occhi ben aperti, qualcuno parlava di Inter, credo che con la permanenza di Cianoglu i neri azzurri si siano praticamente defilati, poi ci sta a attuare delle manovre di disturbo, figuriamoci quando è coinvolta la Juventus, ma questo lo sappiamo perfettamente, e c'è una Juve che lavora, che lavora con serietà, con le idee molto chiare, e con l'ambizione di regalare, con la parolina magica, sostenibilità, il miglior organico possibile. a te comotta.